Sulla questione della sanità, il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, invita gli omologhi di Eboli, Mario Conte, di Battipaia, Sicilia, Francese, all'unità. Gli ospedali dei rispettivi centri, secondo il primo cittadino bellizzese, devono essere visti come una cosa sola, che convive e coabita nel medesimo spazio territoriale e non come due entità contrapposte tra loro, come purtroppo oggi pare che accada. Volpe e inoltre Bacchetta Mario Conte, che nei giorni scorsi aveva attaccato il primario di chirurgia di Battipaia, Francesco Larocca, chiedendone il sollevamento dell'incarico per chereo di gestire i trasferimenti di medici da un ospedale all'altro, ai danni di Eboli. Mi sembrava inopportuno questo attacco ingiustificato per quanto riguarda la chiusura del reparto di chirurgia ad Eboli e una presunta chiusura dell'eurologia. Io credo che dobbiamo sederci intorno a un tavolo. Non vedo questa contrapposizione ancora campanilistica tra Eboli e Battipaia, quando parliamo di un'area bassa, perché lo dico sommessamente alla mia collega Cecilia Francese e al sindaco di Eboli, non sono ospedali comunali, sono ospedali territoriali. Quindi sono l'ospedale di tutti. E non a caso la conferenza dei sindaci, che non si riunisce da anni, sarebbe il caso che prendessimo in mano e ragionassimo un po' in modo positivo, non in una contrapposizione, perché se dobbiamo avere due unità operative di cardiologia o di chirurgia a 5 km, e avere impegnati 30 medici, 15 a Battipaia e 15 ad Eboli, quando possiamo fare una chirurgia all'altezza unica per tutto il territorio. Quindi dobbiamo cercare di ragionare in questo contesto. Mi sono permesso di dire che siamo abituati alla operazione, ma molto spesso ci dividiamo su delle cucinerie. Quindi ho invitato Mauro Conte, e lo faccio adesso attraverso i vostri canali, anche all'amica Cecilia Francese, di evitare contrapposizioni. Dobbiamo fermarci a ragionare.